salve bentornati sul mio canale oggi vi parlo del dell'app del google mini come poter sincronizzare i nostri sonoff o qualsiasi altra apparecchiatura con il nostro google home mini ok google canta ecco una canzone mattacchiona che non ha ritmo e melodia forse anche il testo non funziona quindi adesso vado via ehi almeno fa rima sigla allora vi volevo fare vedere come si impostano sul google mini home le applicazioni vocali di del nostro sonoff oppure della nostra striscia magic home allora andiamo su home perfetto andiamo su le impostazioni e mettiamo controllo domestico ok a questo punto dobbiamo premere questo più se vedete qui abbiamo tanti apparecchiatori tanti apparecchiatori che possiamo collegare al nostro google home perfetto in questo caso io già le ho memorizzati prendiamo smart we link che non è altro che il nostro everlink in questo caso lui mi dice di scollegare no non lo voglio scollegare vi collegate e mettete il vostro account del vostro everlink così si può sincronizzare allora facciamo fin da che abbiamo air touch lo clicchiamo questo lui si apre mi dice di collegare il mio account ok mi dice di aggiungere il mio ma io qua non ho niente non mi sono mai registrato quindi questa è la procedura da fare per gli altri dispositivi ovviamente non è detto che potete installare solamente i son off ma potete anche utilizzare anche altri apparecchiature di cui se guardate bene ci sono anche anche delle apparecchiature molto importanti tipo se riesco a farvelo vedere deve essere quello della philips ecco guardate abbiamo anche quello della philips quindi potete collegare lampade philips sempre dovete mettere la vostra email e la vostra password potete utilizzare anche qualche cosa della osdra oppure anche altre case una volta vi siete collegati con la vostra app tornate indietro e avete sotto tutto quello che avete collegato io in questo caso una lampada per la villa uno scaldacqua del bagno e una trivella per la villa e i led rgb che abbiamo provato nel video precedente a questo punto potrete far funzionare il vostro dispositivo google mini con la voce benissimo ok se ti è piaciuto il mio video metti un like verso sopra i registrati al mio canale che anche il mio sito se vuoi condividi con tutti su facebook ok google canta questa canzone è un po sottotono meglio finirla con un bel suono alla prossima ciao è un mattacchione